Come si può definire l'insegnamento dei maestri immateriali? Commento? Si può definire la dottrina totale delle cose, perché comprende il macrocosmo e il microcosmo, i sentimenti e le azioni, le intenzioni e il destino, gli animali e le pietre, le piante e i pianeti, i sistemi solari e gli universi, il cosmo ed i cosmi. L'insegnamento non distingue tra gli innumerevoli oggetti del creato, perché li osserva tutti come scintille della coscienza assoluta.